Buona domenica ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Perle i Porci. La primavera è una stagione meravigliosa ma non per gli allergici, quindi abbiate pazienza e sopportatemi con questa voce più nasale del solito perché sono in piena emergenza cortisonica. Allora, oggi parliamo di un argomento molto interessante che in realtà ho trattato tante altre volte, ma è che voglio riproporvi oggi, cioè come fare a scegliere il professionista adatto a me. Allora, quando noi abbiamo la necessità di farci seguire da qualcuno, quando noi abbiamo bisogno di rivolgerci a un avvocato, a un commercialista, a un esperto di un settore specifico per risolvere un problema, si aprono scenari molto spesso simili. Innanzitutto chiariamo un concetto, vi passo questo concetto, di marketing che dovrebbero sapere tutti, ma va bene sempre anche risottolinearlo. Il mercato funziona quando io ho un problema e c'è qualcuno che mi vende la soluzione, quindi questo è il match perfetto. Io devo perdere peso, trovo Claudio Manzoni Fitness Coach che mi vende la sua strategia affinché io possa perdere il peso desiderato. Io ho bisogno di fare causa al mio confinante perché mi abbatte sistematicamente il muro di cinta e me lo voglio togliere dalle palle una volta per tutte, mi rivolgo a un avvocato che è specializzato in queste tipologie di controversie e quindi risolvo il problema. Ho un contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, devo rivolgermi a un commercialista che abbia delle conoscenze specifiche sulla materia. Ho bisogno di portare la mia residenza fiscale all'estero, mi voglio trasferire, ho bisogno di rivolgermi a un fiscalista internazionale che abbia una conoscenza e una panoramica globale e che possa capire perfettamente qual è la mia necessità e vendermi il prodotto, la strategia, il metodo adatto a me. Quest'ultimo passaggio è molto importante, per quale ragione? Perché molto spesso quando noi ci rivolgiamo a un professionista lui ci vende la sua strategia. Se io mi rivolgo, conosco un commercialista che è forte in UK, lui probabilmente mi proporrà solo ed esclusivamente di fare una società LTD, che è quella specifica di cui lui si occupa, senza sapere o senza pensare che probabilmente per me non è la soluzione migliore, perché probabilmente per me la soluzione migliore sarebbe quello di aprire una società a Malta, una società a Cipro, una società a Dubai, una società in Vietnam, eccetera eccetera. Allora questo che cosa significa? Significa che se io vado da un nutrizionista probabilmente nel 90% dei casi lui utilizzerà quella strategia, quel metodo che conosce, perché segue le linee guida, perché è un appassionato di chetogenica, perché il suo sistema permette di dimagrire utilizzando chetoni esogeni, utilizzando alimenti che inducano la chetosi, utilizzando integratori, utilizzando farmaci, eccetera eccetera eccetera. Allora, nella tipologia del cliente disperato, disposto a qualunque cosa pur di dimagrire, senza fare sacrificio e senza capire che deve cambiare stile di vita per poter dimagrire in maniera sana, salutare e mantenere nel tempo questo risultato, il primo cialtrone va benissimo. Che sia col farmaco, che sia con l'integratore, che sia con i chetoni, che sia con gli alimenti, che sia a qualunque condizione che vi mettano le tutine con gli elettrodi, il cliente disperato prende la prima strada possibile, che gli promette la via migliore, la via più breve, la via più indolore per dimagrire. E quasi sempre questo soggetto si ritrova ad aver perso migliaia di euro, probabilmente dimagrendo, non in salute e nel tempo riprendendo tutti i chili persi. Poi ci sono, diciamo, quella categoria che rappresenta la maggior parte dei nutrizionisti, dietologi, biologi, personal trainer, fitness coach, chi più ne ha più ne metta, che seguono le linee guida, che quindi continuano ancora oggi, nel 2024, a prescrivervi diete dove dobbiamo pesare gli alimenti, oppure dove diventiamo schiavi delle app che ci consentono di conteggiare le percentuali di macronutrienti, per cui ti dicono tu devi mangiare il 50% dei carboidrati, il 30% di proteine, il 20% dei grassi, vendendoti l'illusione che restando all'interno di questi range tu possa dimagrire. Oppure quelli che tramite le app ti vendono la libertà conteggiando le chilocalorie giornaliere. Quindi tu puoi mangiare qualunque cosa, purché rientri in quel range di chilocalorie. Quindi usciamo da una dipendenza che è quella del cibo ed entriamo nella dipendenza delle app, per cui noi non impareremo mai in realtà ad alimentarci secondo natura, secondo la strada migliore per noi e soprattutto in salute. Perché? Perché queste strategie continuano a innescare nella mente di una persona che ha problemi con il cibo e quindi è in sovrappeso la scorciatoia. Cioè io devo mangiare 1700 calorie, però mi hanno detto che è l'importante che io assuma massimo 1700 calorie durante la giornata, non ha importanza da dove. Quindi io siccome sono una persona golosa cosa faccio? 100 grammi di cioccolata sono già 5,50 e mi mangio 100 grammi di cioccolata. Me ne rimangono ancora 1200. 1200 posso prendere quel dessert, zero calorie e quindi, cioè capite? Continuate a non capire cosa fare realmente. Questa è una scorciatoia che probabilmente vi porterà a perdere del peso, ma vi rende schiavi perché poi voi non saprete dominare la vostra alimentazione. Dovrete continuare ripetutamente a utilizzare queste strategie per mantenere il peso nella migliore delle ipotesi possibili. Allora come fare a capire qual è il professionista che può fare al caso vostro? Se fate parte dei clienti disperati, ripeto, qualunque buono per voi, purché abbia prodotto dei risultati con qualche persona che conoscete o che magari vi fidate di ciò che mostrano in rete e quant'altro, come faccio io d'altronde, no? Oppure dovete passare attraverso le forche caudine dei nutrizionisti, biologi, eccetera, che seguono le linee guida tradizionali. 120 grammi di riso, 75 grammi di nasello, ma non il tonno perché è più grasso, 25 grammi di olio e 125 di bietola, che diventa una gabbia ingestibile perché spiegatevi come fate andare al ristorante quando dovete seguire un regime del genere, spiegatevi come farete ad andare in vacanza, eccetera, eccetera. Oppure capire la prima cosa fondamentale, quella di imparare un sistema che sia sostenibile nel tempo, oggi e sempre, che vi permetta di seguirlo, che siate a casa, che mangiate fuori, che siate al lavoro, che siate in vacanza, che ci sia il 25 aprile, il primo maggio, le vacanze ad agosto, a settembre per chi va dopo e vuole spendere meno e poi arriva subito Natale e poi siamo nuovo a Capodanno, poi dopo c'è il Carnevale, c'è di nuovo Pasqua, vedete, siamo già arrivati a un anno e molto spesso le persone non decidono, passano gli anni e aumentano i chili. Quindi la cosa più importante da fare prima di scegliere il professionista è avere le idee chiare, come per tutto nella vita. Voi prima di decidere di scegliere quel commercialista dovete farvi uno studio vostro, dovete avere voi le idee chiare su cosa volete, cosa cercate e cosa vi serve. Non andare alla cieca, non affidarvi al primo che vi capita, che vi può dire qualunque cosa, voi dovete accettare perché non sapete. È giusto non conoscere nel dettaglio la materia perché non possiamo essere tuttologi, però in linea di principio dovremmo fare uno studio prima su noi stessi per capire cosa vogliamo, cosa mi serve. Ripeto, se sono un cliente disperato e voglio dimagrire con le anfetamine, non c'è problema. Devo andare a trovare qualcuno disonesto che mi prescriva le anfetamine spacciandomi per un obeso grave e quindi io prendo le anfetamine, mi spegne lo stimolo della fame, poi dopo vedremo i danni successivi, però intanto io dimagrisco. Se invece voglio uscire una volta per tutte da questa dipendenza del cibo e voglio capire che cazzo devo fare realmente per poter capire cosa devo mangiare per dimagrire, come mangiarlo, quanto mangiarne, come ciclizzare la mia alimentazione perché non sia noiosa e una volta aver raggiunto l'obiettivo mantenerlo nel tempo. Bene, se siete arrivati fino a questo punto del video, io grazie alle mie migliaia di testimonianze, grazie alle mie dieci anni di esperienze e di attività con successi straordinari che immagino voi abbiate già visto, se mi seguite minimamente sarete stati attratti da qualcosa, mi occupo di questo e faccio questo con i miei clienti, li metto nella condizione di poter capire cosa fare, come fare, quanto farlo, quando farlo per tanto tempo, come ciclizzare l'alimentazione, come cambiare i protocolli, come gestirli quando abbiamo fatto dei danni, come gestirli quando siamo in equilibrio, come gestirli quando vogliamo dare quel quid in più. A questo proposito voglio ricordarvi che abbiamo tirato fuori Estate Perfetta 2.0, un protocollo di due mesi che ha spopolato come Estate Perfetta dell'anno scorso, che ha visto già migliaia di persone essere entrate e aver iniziato ad aver avuto già i primi risultati, come dalle testimonianze che ho condiviso e che scade domani. Costa 199 euro, sono due mesi di programmazione potentissima che vi consentirà di iniziare un percorso di remisa in forma, di continuarlo se avete preso già altri prodotti come la sfida dei 28 giorni, sfida perfetta, Estate Perfetta dell'anno scorso. Se siete i miei clienti in protocollo, tenervelo nel cassetto perché è una pistola fumante che potrete tirare fuori al bisogno quando avrete finito il percorso. Se siete stati i miei clienti sapete già di che cosa stiamo parlando, quindi sicuramente l'avrete già preso. Io con questo vi saluto, vi auguro ancora una volta buona domenica e voglio sapere cosa ne pensate di questo video e se vi ho dato un po' di nozioni per potervi far camminare molto più serenamente in un mondo fatto di tanta confusione. Buona domenica e ci vediamo in Estate Perfetta 2.0.